Lega Pro, nel girone A, nello sconto diretto salvezza, la Propatria fa tre gol a Novara, seconda vittoria consecutiva per i bustocchi, questa vittoria nel derby col Ticino ha cominciato un po' con polemiche, con striscioni offensivi nei confronti del Novara, ma secondo me sono un po' gli sfottò che fanno parte del tifo, sono altri i problemi sicuramente. L'Atalanta perde in casa col Trento, risultati un po' provinciali per le correnate, il Mantova è primo, ci sono sempre lì attaccate Padova, Vicenza e Triestina che cercano di agguantare il primo posto per poter risalire. Nel girone B c'è una lotta a due punti di distanza tra Cesena e Torres, stando attenti comunque a squadre come il Pescara che potrebbero ritornare di nuovo all'attacco. Peccato per la posizione di classifica della Spal che veramente sta soffrendo di nuovo e sta rischiando purtroppo ancora la retrocessione, la Spal è una di quelle squadre che serve alla Lega Pro. Mentre c'è nel girone C una super Juve Stabia che continua, nonostante il pareggio 2-2 in casa, continua a mantenere la vetta, con una casertana e un picciano che un pochino arrancano, ma tendono a mantenere il passo della squadra di Castellammare. È una Lega Pro molto emozionante che sta regalando un sacco di emozione e questo è molto bello.